Riparte tra le polemiche a Scafati la sosta a pagamento. Il servizio è stato affidato all'Axe, un euro al giorno, in due aree, Piazza Aldomoro e l'area mercatale. Ma non mancano le polemiche. Scafati in movimento ha sottolineato la scarsa pubblicizzazione della ripartenza del servizio, ma insorgono anche gli anziani del centro di Piazza Aldomoro. In passato pagavano un abbonamento di 5 euro al mese, questa volta invece come tutti dovranno pagare la sosta un euro al giorno. Adesso devono pagare un euro, gli anziani pagano un euro, allora questi anziani vengono a giocare le carte di mattina, poi vengono a pomeriggio e noi nemmeno che possiamo pagare un euro di mattina, un euro di pomeriggio. Questo ci verifica solo al centro anziani qui, a Villa Comunale, altri centri non pagano niente. Noi vogliamo parlare con i commissari, con il presidente dell'ACS che è l'incaricato, noi vogliamo tutelare questi anziani, facciamo l'abbonamento di 5 euro come era prima. Noi anziani che vengono a fare i turni, i turni già non vogliono venire, sarà una giornata interna nel centro, poi devono anche pagare per pagare. E non è una cosa giusta questo, altri centri non pagano niente, questo non è giusto.